Tu immagina quindi di avere nel tuo esercito, mentre stai combattendo, stai facendo questa guerra, immagina di avere i tuoi soldati tutto ad un tratto contro di te. Cioè non solo morti, è peggio di essere morti, non solo i tuoi simili, cioè il tuo esercito che stai facendo la guerra è morto, ma è ancora peggio. Quello che è successo è che sono stati programmati a odiare te e quindi ti uccidono, mettono in pericolo la tua vita. Ci troviamo un po' come in quelle navi con tanti schiavi che fanno, che remano tutti insieme. Questa nave stiamo vedendo che sta andando verso una cascata e i nostri compagni sono stati programmati a continuare a remare verso questa cascata con le loro mani proprio. e noi così stiamo remando dalla parte opposta e così siamo così, dobbiamo cercare in tutti i modi di far capire a questi zombie che abbiamo vicino a noi di svegliarsi e di capire che devono remare dall'altra parte. Come fai a parlare con questa gente? Con un'altra specie! Io sinceramente mi piace quella giornata così ventosa perché è sintomo di movimento, di vita. In questo momento il vento è calato proprio perché è stato dominato. Adesso è entrata un'alta pressione fredda che veniva dalla Russia e quindi caldo, freddo, ha vinto il freddo, finisce la battaglia, quindi battaglia finita ragazzi, ha dominato il freddo e il vento sta calando, nel senso che sta facendo le ultime battaglie il vento diciamo, il freddo che è venuto dalla Russia e però ormai ha dominato quindi per questo il vento sta calando adesso piano piano. I clown sono sempre qua, guarda, uno clown, due clown. Non si capisce perché hanno messo il muro che la gabbia è ovunque qua. Comunque quello che possiamo imparare da questo evento, così drammatico, è che praticamente quando arriva when the shit hits the fan, come dicono in America, sarà difficile poter fare qualcosa ragazzi. You know, it'll take time to restore chaos and order, but we order out of chaos.